Io vi avendo qui, tra di nuovo Dio, dell'immagine di mio cuore Ma inizia il Corso Dio ha detto che c'era l'immagine del miroir Il ha detto una parabola E questa è la che fa allusion al verset 35 della sua 24 Verset 35 della sua 24 Alli Verset 35 delle sua 24 Verset 35 del coro C'è il suo verso 35 della sua 24 che dice cosa? Allons-y che dice? Alla la lumiere dei suoi di la terra Alla la lumiere dei suoi di la terra La lumiere è semblabile a un eschio dove si trove una lampe La lampe è dentro di un cristal e ci semblava un astro di grande éclat Son combustible viene da la benigre Un non limier, ni oriental, ni occidental dont l'huile semble eclairissante sans que lui la touche Lumiere su lumière Alla guerre des salarii qu'il veut Alla propose aux hommes des paraboles Alla est omnicien Quelle beau verset Alla la lumiere sui la terra Alla la lumiere è semblable Alla la lumiere è semblable Ainsi commence quoi? La description È semblable a un eschio di l'ampe Alla la lumiere dei suoi di cristal E ci sono un astro di grande éclat Son combustible viene da la benigre Alla lumiere è oriantale, né occidental Alla lumiere è semblable a crescere Nessant Quelle vu la touche Lumiere sui la lumiere Alla la lumiere è semblable Alla propose aux hommes Alla la lumiere è semblable Alla la lumiere è semblable Alla lumiere è semblable Alla propose aux hommes des paraboles E lei è omnisciente. Il dice, il propose che tutto sia del parabolo. E che sia omnisciente. Il sape quello che vuole dire. Allons-y. Vediamo. D'abord. Vediamo, vediamo. Vediamo. Vediamo la banca che è l'aerance. Se li ha parlato alla. È privili di happened, l'��Nagone. È ilBC. forse? C'est la vaillabe! C'est la vaillabe! Facciamo! 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 Il prenavo le contenu di BFC Avant di disciplare la BFC Le BFC Le contenu di BFC Ma 4 Ses VFC Le BFC Il upbeat C by vent C'est boi 2 Итак Le Ich qui fait la variene filed Le inquérent Le IC Ici Questa è la persona che vuole il mio cuore. Questa è la persona che vuole il mio cuore. Non. Il n'est pas le miroir de l'autorité. Il a la lumière, la. C'est un piacetone de la lumière. C'est un piacetone de la lumière. E c'est la persona che vuole il mio cuore. Che vuole il mio cuore. Che vuole il mio cuore. E finalmente. C'est qui se presenta. Generalmente. ELA Grazie.